Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Economia della Repubblica d'Angola e il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana sulla cooperazione economica. Per il Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana firma il Ministro Federica Guidi. Per il Ministero dell'Economia della Repubblica d'Angola firma il Ministro Abraham Pio dos Santos Gorgel. Memorandum d'intesa tra il Ministero delle Finanze della Repubblica d'Angola e Sace S.p.a. Firmano per Sace S.p.a. l'amministratore delegato Alessandro Castellano. Per il Ministero delle Finanze della Repubblica d'Angola il Ministro delle Finanze Armando Manuel. Grazie.